Siamo con i cattivi, milizia. Guarda, Simu. Che figata. Non abbiamo scelta, ora ho mai più. Se non usiamo il carburante, nessuno di noi ce la farà. La quota crede in voi. Via, via, via. Via, 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 via. Non è bene cosa dice il Titan. Ok, questa operazione è per i punti di controllo. Questa nel maggior numero possibile. Collegami e io farò il resto. Eh, iniziamo già a fare qualche kill, va. Ok, le pompe di carburante su Bravo sono attive. Aridai, si sta rifornendo. Ah, ma hanno ucciso. Ok, le pompe di carburante. Prendiamo la pistola potenziata, va. Ok, le pompe di carburante su Bravo sono attive. Dai, si sta rifornendo. Stiamo perdendo Charlie. Ok, capo. Più punti di controllo a cui connettersi abbiamo e prima vincere. No, ha mattinato un calcio ordante. Ok, ti stai avvicinando al Charlie. Occhio in inizio. Ok, ti stai avvicinando al Charlie. Occhio in inizio. Beh, almeno abbiamo fatto l'assist. Oh, è il tempo di uccidere. Sì, è il tempo di uccidere. Sì, dovrebbe essere una battaglia equista. Ok, le pompe di carburante su Bravo sono attive. Aridai, si sta rifornendo. Ok, ti stai avvicinando al Charlie. Occhio in inizio. Ok, ti stai avvicinando al Charlie. Occhio in inizio. E vai. Sì, abbiamo fatto fare anche il Titan. Titan, Titan, arriva sul nemico. Titan. Titan, pronto in 30 secondi. Di già, ho già l'altro Titan pronto. È buono. Sono ultimo in classifica? Così, anche un'imera. Stiamo perdendo Charlie. Il punto di controllo Charlie è offline a tutte le unità. Dovete riprendere Charlie immediatamente. istorbiti il A Charlie, occhio ai nemici. Il Titan sarà pronto i suoi nemici. Abbiamo perso Charlie. Ma l'ho asfaltato. Vediamo un po' se c'è qualche nemico qua vicino. Ah, ma l'ho scambazzato. Di nuovo. Venivano scambazzati sembra una cosa abbastanza comune. E sto facendo molto schifo. Ah, ma stiamo vincendo. Quindi che ce frega a noi. Se ci scambazzano, non gli terapero due. Tanto vinciamo. Fuzzone maledetto. Ok, non mi ha lasciato scappare gli altri. Via, 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 via. Bene, la flotta ha carburante a sufficienza per un altro mese. Laggiù era il caos, Bish. La nostra strategia fa acqua. Sarà nessuno di noi a esperienza nel guidare un esercito così grande. Dovremmo lavorare con quello che abbiamo. Non c'è scelta. La navicella nemica è arrivata. Elimina la prima che sia lontani. Vediamo se c'è qualche nemico. Ma mi sa che l'abbiamo uccisi tutti. Buona. Fine della prima campagna. Sono ultimo, ovviamente. Però sono passato di livello. E vediamo se c'è un video finale. Altrimenti vi saluto e alla prossima puntata. Vediamo se c'è un video. Dai, vogliamo un video! Niente. Ho sbloccato un po' di roba, però. Ho sbloccato la personalizzazione Titan. E mi sa che ho finito qualche sfida. Ehm, ho finito 6 sfide. Ho messo un figo. Quindi, alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.